Ciao ragazzi! Ciao! Oggi vi facciamo vedere una novità che abbiamo apportato alla cameretta di Alissa perché c'era la scrivania con la zona pc c'è il suo letto qui in alto e adesso c'è anche un'altra cosa il divano! Il divano! L'angolo salottino! Tra l'altro è già bello affollato, vedo? Fammi posto, questo divano è mio! No, ma qui non c'è posto per te! Come non c'è posto? Eh no, vedi, siamo pieni! E allora sei tu che te ne devi andare! Ok! E dove andrai? Beh, se qui abbiamo messo questo divano evidentemente c'è un motivo! E cioè che dove prima c'era questo divano ce n'è un altro! E oggi ve lo faremo scoprire perché non è un divano normale! No! Pronti alla sorpresa? Arrivederci! Ta-da! Guardate qua ragazzi! È un divano da home cinema! Ci siamo praticamente fatti un cinema in casa È super spazioso ma ha anche delle funzioni speciali che adesso vi faremo vedere L'abbiamo presa da qui Valencia Theater Seating ce ne sono un sacco di modelli e il nostro è il modello Oslo! Vai Alissa, vai Daniel! Fatemi un po' vedere questo divano! Allora, innanzitutto è super grande! Sì, è comodo! Allora, siamo super larghi quindi si entra anche tranquillamente papà seduto vicino a noi mentre prima già in tre facevamo fatica a starci stavamo tutti stretti quindi ci serviva un divano più comodo però se volessimo stare ancora più comodi che possiamo fare? Basta spingere questo bottone e si alza la seduta per le gambe e non solo si abbassa anche quella per la schiena e guardate un po' come vi ritrovate Ah, c'è super relax! Troppo bello! Ma, per esempio, se uno con la schiena non si sente tanto comodo, che fa? Con il bottone in mezzo cliccandolo si alza si gonfia il supporto lombare e quindi te lo metti esattamente come piace a te gonfio o meno gonfio così si gonfia e così si sgonfia Ecco, a vederlo non si vede tantissimo ma quando avete la schiena appoggiata si sente tantissimo Ovviamente si può anche stare solo con le gambe stese e la schiena dritta se uno vuole guardare un film con le gambe belle stese e però vuole stare comunque seduto lo può fare, non deve stare per forza sdraiato E che film vi guardate oggi? Ma dov'è il telecomando? Ah, se io dov'è Tadà Guardate quanto spazio nel bracciolo Qui altro che telecomando c'entra di tutto però almeno così sicuramente non lo perdete Ok, mettete un bel film Oh, One Piece, dai Però qui ci vuole un po' di atmosfera Alexa, spegni i luci Ho portato qualcosa da bere ma non vedo bene dove metterlo Ah, ecco Wow, il portabevande ha anche i led Ok, e dopo il film però uno non può stare a guardare solo gli schermi e guarda un po' Daniel nel tuo contenitore invece che cosa trovi? Io Cosa c'è? Virus Un gioco di società e quindi vi potete fare una bella partita Sì, vai, giochiamo qui Qui al centro? Beh, lo spazio volendo c'è però mi sembra un po' scomodo Eh, non è che avete qualche altra idea? Sì, io ce l'ho Rafforniamo il posto in mezzo in un tavolo Wow Ok, dai via col gioco E mentre voi giocate vi preparo un piccolo snack Chi sta vincendo? Io Io ho vinto Brava Cioè, sono arrivata per un momento e allora danni il premio di consolazione Un po' da bere Ma non ti senti un VIP tipo nella prima classe di un aereo? Io un po' sì Anche perché c'è anche un'altra cosa simile ai posti dell'aereo che non abbiamo ancora fatto vedere Utile Soprattutto se magari è sera è un po' buio ma voi volete ancora continuare a giocare Che potete fare? Possiamo accendere le luci E così vi illumina proprio la zona tavolino senza illuminare per forza tutta la stanza Possiamo anche muoverle No, no Questo non l'avevo notato che sono anche indirizzabili Però possiamo sì accenderle così ma anche più intense Si può regolare l'intensità Ecco perché questa parte centrale non si può stendere come quelle laterali Però direi che abbiamo un'altra funzione molto utile e molto bella Ma se per caso uno sta giocando sta guardando un film e si accorge di avere il telefono scarico come in questo caso Che cosa può fare? Si deve per forza alzare e andarlo a mettere in carica da un'altra parte? Eh no Perché premiamo qua E ci sono due prese normali e due USB direttamente E qui possiamo anche caricare le USB direttamente dalla nostra sedia Cioè ne avete due anche qua vicino Praticamente potete mettere in carica tutti i dispositivi di casa direttamente dal divano Cioè ragazzi Ma è troppo figo Ma che cos'altro possiamo dire? Ma lo vedete? E poi anche se noi ancora non li abbiamo presi qui c'è la predisposizione per mettere degli accessori che rendono il tutto ancora più interessante Basta andare sempre qui sul sito su Accessories e troviamo il tavolino che si può anche muovere mettere davanti quindi uno magari deve lavorare deve stare al pc oppure ci vuole proprio mangiare magari mentre guarda la tv non gli basta quello centrale Poi c'è il reggi calice per fare veramente i super VIP oppure il supporto per il tablet Perfetto questo divano Ti piace? Si Io lo adoro e ve lo consiglio E poi tu così ci hai guadagnato anche un divano per la camera tua Per richiuderlo è semplicissimo non è per niente pesante Cioè Letto matrimoniale Però io la testo troppo avanti Ah Questo è un difetto lo portiamo indietro allora? No no Anche qui c'è il bottone Così puoi tirartelo avanti e indietro in base a come stai più comoda Per esempio se tu ti stendi tutta giù può essere utile avere il cuscino un po' più avanti perché magari ti tiene la testa un po' più dritta per guardare la tv e anche la luce led per il portabevande si può accendere o spegnere ho capito che praticamente non ci muoveremo più dal divano qui se facciamo la challenge 24 ore sul divano secondo me non troviamo nessuna difficoltà perché possiamo veramente farci tutto mangiare bere dormire manca solo il bagno aspetta ma attenti c'è un accessorio per rifare no quello ancora no insomma ragazzi questo divano Valencia Oslo console edition è veramente fantastico ma come vi abbiamo già detto ci sono anche altri modelli perciò andate sul sito nel link in descrizione sfogliateli guardate quelli diciamo che potrebbero essere più adatti alla vostra stanza perché effettivamente serve un po' di spazio noi per fortuna qui non avevamo niente quindi ce l'abbiamo potuto mettere però ci sono anche un po' più piccoli o addirittura più grandi no dovremmo fare tipo degli scalini degli scalini così uno lo mettiamo più in alto uno un po' più in basso e possiamo guardare il cinema in 6 7 anzi su ognuno di questi ci potremmo stare anche in 4 secondo me anche in 5 è una sassopra Daniel io sto molto comoda questo divano Daniel edition lo trovo veramente comodo ma guardate che schienale ergonomica ma il divano si sta ribellando a me allora aspettate voglio provare il divano alissa edition vediamo vediamo com'è però questo lo trovo più scomodo aspettate cosa sta succedendo aiuto va meglio va bene aiuto adesso va meglio sto molto più comoda cosa sta succedendo no ma perché questi divani mi cacciano via non capisco questo è giusto ah ecco mi sedo qua almeno qui non si muove niente ah ma cosa cosa state facendo cosa state no stile catapulta siete contenti si rimettiamo il divano vecchio no 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 sicuri si si sicurissimo ok adesso abbiamo soltanto un problema ragazzi convincere via che questo non è il suo nuovo tiragraffi ultralusso ma che qui non ci si deve avvicinare perciò il nostro prossimo obiettivo sarà comprare un tiragraffi fighissimo che farà stare via lì e non venire qui dobbiamo starci un po' attenti perché ragazzi questa è pelle non sono materiali scadenti è veramente di grandissima qualità vi faccio vedere anche le cuciture non so quanto possa interessarvi però magari se c'è qualche adulto in ascolto che è interessato a vedere questi dettagli io posso assicurare che si tratta di una qualità fantastica poi montarlo è stato molto semplice devo dire è stato un po' pesante perché erano dei pezzi belli grossi ma praticamente già montati quindi è bastato incastrare gli schienali e poi alla fine il lavoro era fatto qual è la funzione che vi piace di più? no la funzione di averlo e a te Daniel? a me sicuramente stendermi a me invece piace un sacco il caricabatterie perché ogni volta devo avere magari il telefono da un'altra parte perché io ce l'ho perennemente scarico invece qui me lo posso mettere in carica posso mettermi in carica anche la Nintendo Switch e magari giocare direttamente collegata così o i controller per Minecraft che ogni volta ti si scaricano e allora noi adesso continuiamo a gustarci la nostra visione nel nostro cinema privato vi ricordo che lascio in descrizione tutti i link utili per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video ciao ok ragazzi basta il vostro tempo è scaduto tocca a noi oh adesso ce lo godiamo a noi un bel film sembra nostro nome al carpe sul divano ciao 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 Grazie a tutti.